buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale innanzitutto scusate la mia voce è poco piacevole lo so ma sono raffreddatissima ho tossito praticamente ininterrottamente per tutta la notte ma oggi volevo assolutamente parlarvi della dreamy 2 the mystic palette di nabla cosmetics una nuova palette che in realtà fa parte di una collezione quindi della mystic collection che comprende anche una palette con tre polveri viso dal finish multi riflettente e 5 dreamy creamy liquid lipstick quindi dei rossetti liquidi con una nuova formula cremosa di questi prodotti ve ne parlerò in seguito a breve comunque nei prossimi giorni e perché li ho ricevuti in un secondo momento quindi dopo la palette e voglio provare un attimino meglio prima di parlarvene nel frattempo però potete trovare foto e swatch degli altri prodotti della collezione quindi sul mio profilo instagram ma concentriamoci quindi oggi su quello che è sicuramente il prezzo forte della collezione e cioè quindi la palette quindi dreamy 2 che sarà disponibile insieme agli altri prodotti della collezione proprio dall'una di oggi giovedì 28 novembre sia sul sito nabla che presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 35 euro e 90 sono passati già due anni dal lancio della dreamy eyeshadow palette una palette che ha riscosso un successo incredibile e meritatissimo una palette unica e inimitabile una delle mie preferite di sempre con tonalità che amo indossare che sembra fatta apposta per me e che continuo ho usato tantissimo e che continuo a utilizzare tanto anche se escono ormai ogni giorno palette nuove a raffica a due anni quindi dal lancio della sua palette best seller nabla lancia la nuova dreamy 2 the mystic palette una palette avvolta in un'aura mistica infatti si ispira al mondo della magia dei tarocchi e dei cristalli ho ricevuto la palette all'interno di una box di una bellezza indescrivibile veramente uno scrigno prezioso io impazzisco letteralmente per la cura dei dettagli che caratterizza tutto ciò che è firmato nabla cosmetics la box è questa e come vedete è caratterizzata da questa fantasia in nero e grigio sullo sfondo che richiama proprio le venature dei cristalli con dettagli oro all'interno su questa base come vedete in velluto bordeaux ovviamente c'era la nuova creazione firmata nabla e poi queste carte quindi i tarocchi proprio quindi le carte della passione della fortuna del coraggio della lealtà insomma veramente bellissime io adoro letteralmente sia il concept il tema della collezione insomma veramente molto affascinante ma direi anche il packaging di questa palette che per quanto riguarda il formato è praticamente identica alla sua sorellina maggiore la dreamy 2 è dotata di una scatola in cartoncino quindi di una scatola esterna che come vedete è graficamente quasi identica insomma alla palette vera e propria che è realizzata in cartoncino rigido solido e robusto e compatta ed è veramente bellissima perché è decorata con pianeti galassie e cristalli e con riflessi come vedete olografici quindi con effetto olografico veramente stupenda proprio una palette d'effetto a partire dal packaging su questo sfondo blu notte con dettagli oro ovviamente al centro insomma sulla parte frontale abbiamo il logo nabla e il nome della palette e sul retro quindi le varie informazioni quindi sulla palette che è vegana brutti firme di nitaly contiene 8,6 grammi di prodotto e ha un pao di 24 mesi e dotata anche di una chiusura magnetica di un pratico e ampio specchio interno e contiene 12 tonalità inedite in cinque differenti finisce abbiamo infatti all'interno in questa palette di questa palette due ombretti matt un super matt due latex matt due ombretti nella nuova texture super sparkle che è una texture è un'esplosione di glitter però con una texture con una formula super aderente e poi abbiamo 5 metal foil che sono quindi appunto i rimanenti ora qualche cenno quindi però alle diverse formule perché questo è veramente un prodotto è particolare e quindi proprio per le diverse texture quindi merita sicuramente qualche parola in più in questo senso io amo letteralmente i super matt di nabla sono per me tra gli opachi migliori in commercio vellutati pigmentatissimi dalla texture burrosa fondente proprio quasi cremosa al tatto dal payoff immediato ma semplici da sfumare i matt invece sono degli ombretti sempre ad alto rilascio colore ma estremamente modulabili quindi che consentono di ottenere delle sfumature soft e delicate che però possono facilmente diventare piene i latex matt sono degli ombretti molto particolari apparsi per la prima volta nella cutie palette nude quest'estate e sono ombretti che hanno una texture praticamente plastica quindi una texture materica texturizzata una texture quasi gommosa al tatto ma sottile non sticky che si applica e si sfuma facilmente come un ombretto in polvere che non fa mai sulla palpebre effetto secco e gessoso e che dona una luminosità soffusa che la rende adatta anche alle palpebre non più giovanissime e infatti il finish degli ombretti latex matt non è completamente opaco bensì leggermente lucido va proprio a richiamare quello che è appunto il finish l'effetto del latex o latex che dir si voglia abbiamo poi metal foil quindi in questa palette che sono degli ombretti ad effetto lamina specchiata dal tocco cremoso ombretti super abbaglianti super metallici con una texture sottile aderente che mantiene la sua luminosità per tutto il giorno veramente questa è una texture preziosa che io amo particolarmente molto facile da gestire che non fa neanche il minimo fallout infine abbiamo quindi i nuovi ombretti super sparkle ombretti tempestati quindi carichi di glitter ma sottilissimi come vedrete non abbiamo texture grossolane all'interno di questa palette che garantiscono una perfetta aderenza alla palpebra e sono perfetti proprio per i look più scintillanti io per il momento ho realizzato due look con questa palette l'ho ricevuta da pochi giorni ma oltretutto sono stata veramente malissimo e sono ancora purtroppo ko ma comunque ho provato diversi colori e sulla palpebra li ho sbocciati tutti più volte e per quanto mi riguarda questi ombretti come dice nabla sono ultra pigmentati cremosi fondenti long lasting e con fallout pressoché inesistente la qualità per me a mio avviso è assolutamente altissima i metallici glitterati comunque luminosi in generale sicuramente vi consiglio di applicarli con le dita di tamponarli sulla palpebra su una base grassa matita, si matita, si anche una matita comunque primer, correttore, ombretto in stick quindi per enfatizzare i riflessi e limitare il fallout queste dunque sono le 12 nuance quindi contenute all'interno io trovo queste tonalità bellissime e come vedete vanno proprio a richiamare i colori e i riflessi di gemme e cristalli le tonalità vanno praticamente dal lavorio fino al melanzana scuro i colori sono carichi, vibranti, la scelta cromatica si differenzia rispetto alle palette praticamente precedenti perché i toni si fanno più intensi, si fanno più cupi, ci sono sia toni caldi che toni freddi quindi in questo senso è una palette molto equilibrata e direi che la selezione colori risulta incentrata su tonalità violacee e rossastre con qualche neutro che bilancia la composizione che comunque trovo veramente molto originale, a me non ricorda nessun'altra palette questa combinazione dei colori consente di creare dei look veramente intensi, sofisticati, ricercati, intriganti, magnetici ma anche luminosi, scintillanti, illuminati da bagliori metallici infatti in questa palette abbiamo solo tre ombretti dal finish completamente opaco quindi abbiamo la netta prevalenza degli ombretti dal finish luminoso in questo senso io trovo veramente perfetto il momento del lancio sia perché trovo queste tonalità particolarmente adatte ai mesi freddi e mesi invernali ma perché per il finish sono veramente perfette, ideali per realizzare i look per le feste o comunque look serali intensi che non passano inosservati ma direi adesso di vedere quindi i 12 colori nel dettaglio così poi vi dico un po' meglio che cosa ne penso allora il primo ombretto presente nella Dream E2 è Pantheon che è un avorio opaco nel finish matte perfetto come base per uniformare la palpebra e per illuminare l'arcata sopraccigliare è un colore basic ma fondamentale in ogni palette e poi passiamo a REM quindi passiamo subito al colore protagonista della palette quello che cattura immediatamente lo sguardo ed è questo viola indaco carico di riflessi è un ombretto veramente ad effetto wow nella nuova texture super sparkle io ancora sugli occhi non l'ho provato ma ha sbocciato devo dire che fa un effetto veramente bellissimo insomma se amate i glitter è veramente tempestato di glitter ma come vedete sono veramente molto piccoli, sono molto sottili, sono proprio dei micro glitter il terzo ombretto invece si chiama New Past, è un capolavoro, è un marrone rossastro cupo caldissimo, intenso, saturo, nel finish super matte, burrosissimo e vellutato come tutti i super matte di Nabla è uno dei miei colori preferiti della palette da sfumare nell'angolo esterno dell'occhio o sulla rima cigliare inferiore per dare profondità e tirare fuori il verde dell'iride è quello che ho usato ovviamente anche nel makeup di oggi ma presumo insomma che lo utilizzerò tantissimo anche nei prossimi tempi perché io lo adoro letteralmente poi abbiamo Oniric che è questo bronzo antico con riflessi oro nella texture metal foil è un bronzo come vedete super brillante e scuro diciamo tendente al marrone e poi abbiamo Libertine che è un oro freddo con sparkle, iper luminoso nella nuova texture super sparkle questo è per quanto mi riguarda l'ombretto più bello di questa palette io comprerei questa palette solo per Libertine è l'ombretto che mi ha colpito di più la prima volta che ho sbocciato la palette è veramente pazzesca la scrivenza, la pienezza del colore e l'uniformità nella stesura dalla prima passata tra i due super sparkle io già vi dico che preferisco senza dubbio Libertine questo perché con il viola bisogna un po' lavorarci, va un po' stratificato quindi per ottenere un colore pieno questo è così da subito, dalla prima passata dona luce a non finire sulle palpebre mi ha colpito tantissimo, vi devo raccontare questa cosa insomma la prima volta che ho applicato Libertine, questa è la seconda praticamente ero convinta di ritrovarmi con glitter sparsi sul viso insomma in applicazione, dopo l'applicazione non ne vedevo neanche uno poi ho preso lo specchio 10x perché ho detto non è possibile è del vero, 3-4 glitter insomma sul contornocchi li ho visti ma veramente qualcosa di pazzesco c'è un ombretto come questo, così pieno, così carico formato praticamente da glitter che ha questa aderenza alla palpebra io personalmente è una cosa che non avevo mai visto quindi io spero veramente che Enabla proponga questo ombretto in versione mono perché io voglio assolutamente 7-8 Libertine e poi avrete invece Lucid Dream che è un top coat ad effetto bagnato con riflessi oro e lime nella texture metal foil al tatto questo sembra praticamente quasi crema è semi trasparente di base infatti da solo non rende tantissimo ma è molto bello proprio da tamponare su altri ombretti anche solo al centro della palpebra per arricchirli di mille riflessi poi abbiamo Amacord che è un colore molto nelle mie corde in realtà è un mix di colori un pesca corallo bruciato con riflessi rosa, oro, bronzo nella texture metal foil è molto sottile al tatto e come vedete super riflessato proprio lucidissimo bellissimo anche questo ombretto dopodiché vedete invece Mirabilia che è un viola metista duochrome con riflessi lilla, acqua e magenta è sempre un metal foil infatti ha la stessa identica texture di Amacord è super scrivente, omogeneo e anche questo super brillante e abbiamo poi quest'altro capolavoro che è Dionysus un rosso rubino un rubino come vedete con una punta di berry di media tonalità nella texture latex matte infatti come vedete non è proprio completamente opaco e io lo adoro letteralmente nella piega dell'occhio anche un tocco rende lo sguardo sensuale ed intenso veramente bellissimo questo ombretto abbiamo poi Deja Vu che invece è un beige biscotto come vedete è caldo nella texture matte con note sul caramello un colore da piega perfetto fondamentale nella palette perché come vedete è praticamente l'unico colore opaco medio chiaro e poi abbiamo Hidden Place questo capolavoro qui che è l'ombretto sicuramente più enigmatico della storia e della geografia veramente un ombretto difficile da descrivere perché è un triochrome pesca malva oliva su base grigio fumo nella texture metal foil è un capolavoro perché a seconda della luce cambia va dal verde oliva al rosa violaceo e diventano più o meno visibili i riflessi fucsia ramati rosati questo è veramente un ombretto unico splendido che va assolutamente visto dal vivo per apprezzarlo in tutta la sua bellezza una curiosità infatti su questo ombretto ve la voglio raccontare quando ho realizzato i swatch per il mio profilo Instagram di questa paletta il giorno che è arrivata ho visto poi la fotografia e ho detto madonna ho combinato un disastro perché questo ombretto che io vedo diciamo per lo più rosa violaceo comunque una specie di malva con dei riflessi sul pesca sul rame praticamente in quella foto mi sembrava un verde oliva proprio un verde oliva con base grigiastro e ho detto ho combinato qualche disastro in realtà no perché è proprio così a seconda della luce questo ombretto è rosa violaceo sui malva oppure verde oliva veramente strepitoso proprio quel nome è veramente perfetto perché si chiama appunto l'uovo nascosto ed è veramente un ombretto particolarissimo conclude la palette quest'altro capolavoro che è offline un melanzana scuro profondo intenso caldo con un sottotono sicuramente rossastro splendida alternativa al nero per dare profondità allo sguardo sta bene a tutti ma è sicuramente perfetto per valorizzare gli occhi chiari verdi o azzurri ed è un ombretto sempre nella texture latex matte questi sono dunque i 12 colori presenti quindi all'interno della dreamy 2 e io li trovo veramente splendidi la maggior parte sono veramente abbaglianti sono un concentrato di luce è una palette questa ricca di texture e di riflessi capaci di creare dei giochi di luce pazzeschi sulle palpebre Nabla secondo me in questa paletta ha fatto un lavoro veramente pazzesco sulle texture che è una cosa che io ho pensato tantissimo perché come combinazione colori comunque abbiamo visto un po' di tutto ma le texture possono realmente fare differenze insomma rendere realmente diversi gli ombretti come resa sull'occhio e qui si vede assolutamente lo studio che c'è dietro qui dentro abbiamo degli ombretti carichi di glitter ma davvero ben formulati ben pressati ben aderenti sulla palpebra non abbiamo texture grossolane poltigliose e granulose che se ne vanno in giro sulla palette o sul viso per esempio libertine è proprio un ombretto che ci dimostra come la texture può fare la differenza è un ombretto oro ma insomma la texture rende veramente qualcosa di diverso io ho 6000 ombretti oro ma nessuno appunto come libertine e devo dire che ho apprezzato tantissimo anche io lo definirei scusatemi permettetemi questa affermazione insomma l'ombretto con i glitter per chi non ama per chi teme utilizzare i glitter insomma perché ha tutti gli aspetti positivi degli ombretti con glitter quindi sicuramente l'estrema luminosità quindi donare proprio questo effetto scintillante allo sguardo ma senza appunto gli aspetti negativi dei glitter che insomma conosciamo tutti quanti e volevo dirvi che ho apprezzato tantissimo anche la scelta cromatica proprio la combinazione colori perché si tratta di uno schema di shade assolutamente originale non banale io non ricordo nulla di simile certo magari questa non è proprio una di quelle palette per tutti i giorni neanche io utilizzo spesso nella mia vita quotidiana quando vado a fare la spesa quando vado a prendere i bambini a scuola ombretti ombretti così luminosi o scintillanti insomma ma questa è una palette che consente di creare veramente dei look ad effetto wow dei look sofisticati ricercati intensi preziosi proprio dei make up gioiello dei look ad effetto sicuramente io avrei preferito qualche opaco in più all'interno di questa palette sicuramente non la userò quanto ho usato la Dreamy ma allo stesso modo vi dico sono sicura che al momento giusto serve anche una palette come questa ecco perché per me vale assolutamente la pena acquistarla anche perché ha un prezzo decisamente accessibile questa per me è una palette dedicata alle appassionate di make up che va dritta al cuore delle make up lovers alla ricerca proprio di texture e di effetti che possono fare la differenza in un look quindi è l'atta insomma perfetta per chi magari ha già tante palette ma ricerca in una nuova palette proprio la particolarità insomma la diversità direi a questo punto che non ha molto senso insomma perdere tempo parlando delle similitudini con la Dreamy 1 diciamo così con l'originale perché come vedete speriamo di non fare danni perché veramente non ve lo perdonerei mai vi dicevo insomma proprio a colpo d'occhio si vede che sono due palette molto molto diverse questa è una palette decisamente più delicata ricca di sognanti e romantiche tonalità sull'oro e sul rosa e proprio incentrata sulle tonalità rosate rosa malva rosa pesca rose gold rosso fucsia questa invece propone dei toni sicuramente più cupi vibranti intensi e udaci in entrambe ci sono delle tonalità violacee ma sono assolutamente diverse tra loro e quello che sicuramente conta insomma di più è che qui dentro comunque abbiamo decisamente una concentrazione più alta di glitter e di riflessi la Dreamy originale diciamo resta sicuramente la mia preferita semplicemente perché è quella che propone uno schema di colori più sobrio quindi 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 bellissimo quindi comunque più sfruttabile insomma nel quotidiano ma la Dreamy 2 è la sua degna sorellina per creare look più strong intensi luminosi serali quindi per me sono due palette diverse ma assolutamente complementari e vale la pena possederle entrambe anzi secondo me proprio i look più belli si realizzano proprio andando a mixare i colori quindi gli ombretti presenti nelle due palette l'ultima cosa che volevo dirvi a proposito della Dreamy 2 se posso darvi un consiglio andatela a vedere dal vivo toccatela con mano perché i punti di forza di questa palette sono proprio se non siete convinte ovviamente altrimenti acquistatela subito oggi alla luna vedetevela vedetevela dal vivo insomma toccatela con mano perché i punti di forza vi dicevo di questa palette sono proprio i giochi di luce e le texture e sono degli aspetti sicuramente difficilmente valutabili in foto e video fatemi sapere assolutamente giù nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova palette se l'avete già acquistata in anteprima quindi online sul sito Sephora o sul sito Nabla se avete intenzione di acquistarla insomma tutto quello che vi viene in mente per quanto mi riguarda insomma secondo me Nabla con questa palette ha fatto nuovamente centro e io prevedo voglio fare anch'io insomma mi voglio anche io ricollegare al tema della palette prevedo un altro grande successo ci rivediamo presto comunque con i prodotti con gli altri prodotti della collezione io per esempio sulle labbra stamattina per la prima volta ho indossato uno dei nuovi Dreamy Creamy Liquid Lipstick e sono rimasta molto colpita come vedete l'effetto visivo è bellissimo proprio è levigante rimpolpante il colore è pienissimo la texture è super confortevole insomma già le buone premesse ci sono tutte ma appunto ve ne parlerò molto molto presto io spero di esservi stata utile vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci rivediamo a presto quindi alla prossima ciao 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 Grazie a tutti